Oggi a Piazza Oggi a Piazza Armerina in via generale Muscarà si rinnova una storica attività commerciale, stiamo parlando dell'Eden della carne di Enzo Pranio. Enzo perché in un momento di crisi un imprenditore rischia il suo capitale? Siccome io credo in me stesso e a tutti i miei collaboratori ho provato nuovamente a mettermi in gioco perché ci credo tanto sulle mie capacità, sulla mia volontà, sulla mia voglia di fare, sulla mia umiltà, su tutto quello che sono una persona. Siamo una famiglia, la famiglia Pranio da sottolineare, una famiglia molto umile. Ecco hai parlato di famiglia e qui vedo anche il papà, quindi il primo che ha aperto questa attività commerciale. Adesso sono più di 30 anni che avete questa attività. Sono di più 40 anni. La mia generazione proviene da Macellai, dal bisnonno e dai nonni e dal mio papà. Quindi avete deciso di mettervi di nuovo in gioco, avete aperto altri nuovi settori in questa attività. Sì, abbiamo messo la riscocceria e la panetteria. Abbiamo il pane sempre e tutti i giorni fresco. Siamo anche con Fabrizio Libro, uno dei dipendenti di questa attività commerciale. Fabrizio, da quanto tempo lavori qui? Io lavoro qua da quasi sei anni e devo dire che sono molto contento di fare parte di questa azienda. Mi trovo benissimo. Io ho visto questo, la collaborazione, vi vedo molto amici. In effetti siamo molto amici. Devo dire che è una grande famiglia. Come vedi non siamo pochi. Sì, ho visto, 12 ha detto Enzo che siamo. Siamo 12 dipendenti, quindi penso che sia un'azienda non indifferente. Devo dire anche che quando la gente entra, troverà sempre una persona che l'accoglierà sempre con il sorriso e si troverà come casa sua. E qui troviamo anche Giovanna che è la moglie di Enzio Pranio, quindi anche lei la titolare. Giovanna, quando è importante il rapporto tra dipendente e cliente? Diciamo che è alla base del lavoro, perché nel momento in cui tratti bene il cliente, il cliente ritorna. Altrimenti ti dice ciao, non viene più. Quindi trattare il cliente bene, assumere anche un ruolo di amicizia col cliente è alla base per andare avanti nel proprio lavoro. Infatti per accontentare il cliente abbiamo deciso di ampliare per dare più spazio alla gente, di muoversi più liberamente e di dare agio anche di poter acquistare anche altri prodotti. Sì, abbiamo visto il reparto macelleria, abbiamo visto anche il reparto salumi e formaggi, ma c'è come abbiamo detto all'inizio un nuovo reparto. Come ha detto Enzio Pranio, da lunedì ci sarà tutti i giorni pane caldo. È una varietà importante di pane perché avremo il pane di soia, il pane 5 cereali, il pane integrale e il pane anche quello normale. E non solo, come se non bastasse, è stata aperta il reparto anche rosticceria dove tutti i giorni troverete dei polli pronti, delle pizze, le patate al forno, anche dei primi piatti. Quindi io sto vedendo qui un pasticcio di lasagne, dei sedani fatti al forno, degli arancini e delle fettine di carne. Quindi come vedete l'attività si è ampliata e offre veramente tutto alla clientela. C'è anche Silvio Pranio, un noto imprenditore che conosciamo noi tutti qui a Piazza Merina, è anche un po' padrino di Enzo per questa attività. Sono felicissimo e orgoglioso di questa iniziativa di mio cugino che prema la loro operosità nel mio ambiente e spero che la cittadinanza lo capisca. Perché questa è una vita di sacrifici e questo è il risultato. Speriamo che questo venga coronato realmente con successo, che è il successo che merita con la città, perché è una famiglia che ha sempre lavorato la mattina o la sera senza guardare festività. E con molta umiltà, che è la cosa più importante. Sono orgoglioso dei miei cucini e sono orgoglioso di quello che hanno realizzato. E concludiamo con un Enzo molto emozionato per quello che ha detto Silvio. Abbastanza, il dottore Pranio mi ha stupito. E allora concludiamo dicendovi anche che dalla prossima settimana tutte le promozioni che l'attività, l'Eden della carne farà per la clientela, Grazie a tutti. Grazie a tutti.